Eccoci qua, saliti nella zona mansarda, dove c'è tutta questa zona con il lucernario e il bagno fatto tutto con bisazza, simpatico veramente, e questa è la zona studio o salotto. Vedete invece questa stanza qua giù in fondo è la grande camera, una suite, questa parte qua dove c'è questa porta, qua dietro c'è tutto un grande sottotetto con la zona degli impianti tecnologici, caldaia e quant'altro, e qua la grande camera, suite, bella, veramente interessante, molto grande, con una finestra, un lucernario e tutta la zona letto, veramente grandi, spazi generosi, qua sotto ci sono uno, due grandi sottotetto che possono essere guardaroba, sgombero eccetera, e da qua c'è questa finestra, dove godiamo veramente un bellissimo panorama.